Bella leggenda, io sono quello che va in giro con le cannottiere anche d'inverno Sì, come potete vedere sto in cannottiere da inverno e fa freddo perché è anche tardi Però vado in giro con le cannottiere perché fa figo Assisterete a uno dei video più estremi di tutto il canale Vedrete il primo unboxing che faccio sul canale in ordine di importanza Trattandosi di un non jamming e trattandosi del mio profilo Quest'oggi apriremo di nuovo tutte le ceste del gioco con una piccola differenza Visto che l'avevamo fatto anche tipo 5-6 mesi fa questo video Hanno aggiunto una miriade di ceste Quest'oggi ragazzi apriremo, aspetta preparate l'elenco e preparati eh Baule omaggio, baule della corona, baule sfida, baule torneo, baule argento, baule oro Ehm... ho perso il conto Baule gigante, baule magico, baule super magico, baule epico e baule leggendario Questo unboxing sarà dunque diviso in tre parti E... ci ho messo parecchio a farlo Sì, ci ho messo parecchio a farlo E tutto questo ben di dio che ora vedete Lo vedrete poi nella terza parte del video Quindi, innanzitutto Partiremo subito a caldo con il baule super magico Poi, poi, partiremo subito nelle ceste più brutte del gioco Sia le ceste argente e dorate E poi, finalmente, potrai esistere a questo video Potrai ritornare avanti nel tempo Potrai vedere io che spacchetto tutto questo ben di dio Quindi, non parlo altro perché c'è tanto da spacchettare ragazzi Vado un po' di fretta oggi eh, mi raccomando eh Voglio che lasci like subito eh Io ti lascio alla prima parte Ossia la parte in cui spacchetto il baule super magico Ciao, ci vediamo tra poco Benvenuti nel chest opening con la C maiuscola E anche il resto delle lettere Perché fa figo, sì La parte dell'apertura del baule leggendario Ah, non è vero Il baule super magico iniziamo subito con un tocco di magia Anzi, un tocco di super magia Andiamo ad aprire subito questo baule magnanimo Subito baule super magico 3.652 unità di oro Incredibile Subito prima rara stregone Prima rara stregone Partiamo subito bene 12 gigante Partenza direi al cardiopalma Arrivano anche le comuni 160 sgherri 30 moschettiere Ragazzi escono un sacco di rare Scheletri Attenzione Sono uscite un po' di comuni Sono uscite un po' di epiche Non è vero Sono uscite un po' di rare E adesso è il turno della epica Perché sì Vogliamo quella cavolo di leggendaria La vogliamo La pretendiamo E quindi Dai Dai Spacchettami questa epica Effettivamente Non ho mai trovato una leggendaria Nel baule super magico E ne ho aperti in tutto Circa 3 o 4 Di bauli super magici Ed è una cosa bruttissima Vediamo la epica Ok Principe Principe nero 18 principe nero E Baule super magico Abbastanza brutto Però Però Non arrendiamoci ragazzi Perché Il primo baule andato Ma ce ne mancano Davvero Tantissimi Quindi Ritorniamo nel mio profilo Per fare il resto Apriamo il baule della corona Ne abbiamo aperti Già a bizzeffe In questo video Però Non ci accontentiamo Scarica Tesla Megasgerro 8 Megasgerro Forse ci scappa anche la epica Uh Uh Epica Tatticissima Le guardie Iniziamo subito quindi Con il baule argentato Troviamo addirittura Anche una rara ragazzi Ora troviamo la leggendaria Anche qui Guarda tu Guarda tu Vabbè Sorvolo su queste Su queste sfaccellerie Oro Orda di sgherri Archeri Goblin lanceri E la rara La sfera infugata Che già la ha Seconda volta che la trovo Se non la terza Va bene così Oro Subito Orda di sgherri Mini pecca Vai questa è epica Uh Uh Il barillo di goblin Che mi serve tantissimo Infatti Tra tre carte epiche Lo potenzierò A livello 5 E Saluteremo molte torri E poi Finalmente Potrà esistere A questo video Potrà ritornare Avanti nel tempo Potrà vedere Io che spacchetto Tutto questo Ben di dio Ciao ci vediamo tra poco Benissimo ragazzi Siamo giunti Al momento Che aspettavate di più Come vedete Qui ho una cosa Di mai visto Sia Sia il baule sfida Sia il baule Del torneo normale Qualcosa davvero Di epico Straordinario Baule da 5 carte Tra l'altro Però va bene così Ragazzi Io direi di iniziare subito Con il baule omaggio Baule della corona E iniziare a spacchettare Ragazzi Io sono emozionatissimo Questo è il primo baule Leggendario Che ho trovato Nel mio profilo E sono davvero Emozionatissimo ragazzi Emozionatissimo Speriamo che esca Una bella leggendaria Solo questo Ti chiedo Clash Royale Ok come vedete Lag di prima mattina Così Tanto per Oro Mortaglio E sfera infocata Perfetto Oro Sfera infocata E Spirito di ghiaccio Perfettissimo ragazzi Bellissimo Bellissimo Ok ragazzi Pronti Pronti Baule della corona Subito Lo voglio subito Questo baule leggendario Arceri Tesla Capanna di barbari Attenzione Attenzione Uh Mi è piaciuto Brivido ragazzi Brivido Attenzione Attenzione Io aprirei questi due bauletti Ossia questo Baule del torneo Da 4 carte Sono arrivato quinto Hashtag Mai una gioia Attenzione ragazzi Contiene meno di una free chest Benissimo Cannone Frecce Uno proprio Una comune Proprio 4 carte Una comune Bellissimo E apriamo questo baule Della sfida Che è bellissimo Perché tu Il tuo premio Noi andiamo a cliccare Contiene almeno Solo comuni Cioè non è Contiene almeno comuni Ti lascerebbe almeno La speranza No 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 Pupo Te lo dice Solo comuni Il bello è che questo baule È enorme È enorme ragazzi È grande quanto un baule Super magico E contiene praticamente Nulla Guardate Ma come Contiene almeno solo comuni E mi dai Boh Così a caso Va bene così Va bene così ragazzi Abbiamo aperto quindi Tutte le cesse del gioco Ci mancano solo queste Ci mancano solo le più importanti Il gigante Il magico L'epico E il leggendario Io direi di iniziare In ordine strambo Apriamo I bauli Per ordine di somiglianza Quindi partiamo dal gigante Poi andiamo all'epico E poi andiamo al magico E al leggendario Come vedete La conformazione del gigante E dell'epico È uguale L'avevo fatto notare Già in un altro video Partiamo subito con il gigante Mmm Tre carte Vediamo un po' Parte subito la rara Che è il mega sgherro E devo dire che è abbastanza buono Perché posso almeno Xpare un pochino Con questo mega sgherro Non ho comprato Il costo delle gemme Quindi va bene Sgherri Mi sarebbe andata meglio La lorda Mi stai prendendo Raga 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 Non ci posso credere ragazzi Abbiamo trovato una leggendaria Nel baule gigante Assurdo Scintilla Il cuore che mi batte Il cuore che mi batte ragazzi Voglio un like ora Voglio un like ora Mi dispiace Lo so che non Guarda 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 La leggendaria che non abbiamo trovato Nel baule super magico Che tra l'altro Non era neanche mio L'abbiamo trovata Nel baule gigante Quanto godo Quanto la camera Soquadro Ragazzi Andiamo subito con questo magico Sono carichissimo Oddio Sette carte Oddio Oddio No No Non ci credo che Esce una leggendaria ormai Quindi Bombarolo Domatore di cinghiali Stregone Tesla Valkyria E Specchio Due mongolfiera Veleno E golem Nella cesta epica Nulla di che ragazzi Giusto il golem È abbastanza buono È giunto il momento È giunto il momento ragazzi Se non hai lasciato il like Te lo ricordo Perché questo momento chiave Nonostante la prima leggendaria Siamo un po' decisi Decisi A trovarne Due Seconda leggendaria ragazzi Voi non vi fidate di me Perché faccio casino Oggi sono fortunato E io mi affido a voi Insieme ragazzi Insieme Vai Minatore ragazzi Minatore Mamma mia Quanto è bello Questo minatore Mamma mia Quanto è bello Bello il minatore ragazzi Che l'avevo detto In uno scorso video Non mi ricordo quale Ma che era l'altra leggendaria Che mi mancava Per fare il deck figo La Sparky Che non so usare Però è figa E dà fastidio Quindi Mi va sempre bene Siamo ragazzi Giunti alla Quarta leggendaria Del canale In un battibaleno Davvero stupendo Sono una Pasqua Quest'oggi Quindi ragazzi Spero che questo C'è sto ben in più Epico Anzi Leggendario Vi sia piaciuto Mi sono rinsavito ragazzi Come vedete all'inizio Ero tutto Mogio mogio Adesso sono davvero Super scattante Super leggendario La leggenda Era riscossa ragazzi Due leggen Due Non una Due ragazzi Due No no Dai dai Noi ci vediamo Come sempre Al prossimo video Io vi mando Tantissimi Salutoni Leggendari